we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e qua ragazzi iniziamo la serie dei video dedicati ai fortbyte cosa sono i fortbyte lo state già vedendo ragazzi intanto vi tolgo un attimo il logo così lo vedete meglio ci sono 100 fortbyte che vanno a creare un'immagine che nasconde i segreti della season numero 9 alcuni sono ottenibili solo facendo determinate cose punti esperienza livelli del pass battaglia completamento delle sfide altri invece sono nascosti nella mappa e allora ragazzi oggi andiamo a vedere il fortbyte numero 36 lo troviamo ragazzi come vedete io vi consiglio di mettere questa skin sentinella perché mi sembra che sia ottenibile solo con la skin sentinella ma potrei sbagliarmi ragazzi quindi in realtà prendete con le pinze quello che vi sto dicendo siamo in una delle isolette nella parte bassa della mappa più precisamente in questa e come vedete ragazzi vi capiterà probabilmente durante le vostre partite di sentire anche il rumore del fortbyte e quindi mi raccomando non dimenticate di prenderlo ce ne sono 100 in tutto e arriveremo fino a fine di questa season prima di poterli collezionare tutti quanti come vedete ragazzi come vedete ragazzi atterriamo su quest'isola e se non mi sono sbagliato il fortbyte eccolo qua ragazzi accessibile attraverso sentinella su un'isola congelata il fortbyte numero 36 ragazzi ce lo portiamo a casa in questo momento uccidiamoci e andiamo un attimo a vedere che cosa si nasconde nella schermata di quello che è relativo ai fortbyte datemi un secondo schermata puzzle chiamiamolo puzzle dei fortbyte che è più chiaro forse da capire sfide fortbyte ed il fortbyte numero 36 in questo momento ci rivela un pezzettino di qualcosa che ancora non si riesce a capire beh ragazzi io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao ciao